eh parlando tornando un attimo al libro anzi eh volevo fare vedere infatti che sei stato diciamo recensito eh dal dall'avvenire eh il sabato quattordici maggio Roberto eh Petrini ha fatto una recensione eh intitolandola la moneta fiscale in Italia esiste da due anni eh dove si legge perché la moneta fiscale scotta sostanzialmente è un è una concorrente o complemento della moneta ufficiale nel nostro caso l'euro e dunque mette in discussione il principio che il conio nel nostro sistema sia perrogativa esclusiva della banca centrale moneta che nasce come credito di imposta e muore come imposta pagata e che nel frattempo ha fatto crescere l'economia insomma Stefano questa moneta fiscale fa paura perché fa crescere l'economia e perché svincola Italia dal gioco dei mercati finanziari eh sì è proprio così perché Draghi in realtà ci vuole tenere schiacciati sotto al debito dei mercati finanziari e invece in questo modo diciamo noi possiamo creare potere d'acquisto evitando di chiedere soldi in prestito sui mercati finanziari e questa cosa fa paura e quindi lui sta cercando di bloccarla con tutti i mezzi è un anno che ci sta provando però non c'è neanche riuscito perché poi ogni volta che ha fatto una misura è dovuto sempre tornare sui suoi passi perché a un certo punto lui ha addirittura levato lo sconto in fattura la cessione del credito in banca a novembre dell'anno scorso lasciandolo solo per il super bonus probabilmente per fare contenti 5 stelle ma poi diciamo tutto il settore edilizio le banche si sono ribellate quindi lui ha dovuto rimettere poi lo sconto in fattura la cessione del credito in banca poi a un certo punto a gennaio ci ha provato ancora e ha messo una sola cessione che praticamente mettere una sola cessione era una farsa perché praticamente così bloccavi la circolazione poi a un certo punto è arrivato a tre cessioni adesso pare che ci ha messo pure una quarta cessione perché ormai il meccanismo si è talmente diffuso perché ci sono 40 miliardi di euro di questi crediti fiscali in circolazione che bloccarne la circolazione provocherebbe il collasso del settore edilizio eppure delle banche che si sono riempite di crediti fiscali e che a loro volta li devono ritendere perché probabilmente hanno raggiunto la capienza fiscale quindi non ci fanno più niente quindi lui non può neanche bloccare questo meccanismo ormai perché si è propagato troppo e tra l'altro andrebbe steso ancora al settore industriale al settore dell'acquisto dei beni durevoli a basso impatto ambientale all'acquisto di energia infatti poi il paradosso è che nel decreto ucraina nel disegno di legge lui praticamente ha concepito pure l'assegnazione di crediti d'imposta per le imprese energivore quindi lui sta pure stendendo diciamo il raggio d'azione di questi crediti d'imposta poi però se praticamente ne limita la circolazione impedisce di usarli quindi è un comportamento cioè completamente contraddittorio che non c'è veramente senso cioè questi crediti fiscali devono circolare senza limiti cioè gli operatori di mercato devono poterseli scambiare è una decisione autonoma che prendono in un modo volontario quindi diciamo la strategia di Draghi è pure incomprensibile su questo ma alla fine diciamo che il discorso è che lui ha paura che si mette in movimento una moneta circolante che è complementare all'euro che tra l'altro non mette neanche in discussione il monopolio dell'euro perché l'euro rimane l'unica moneta a corso legale perché questa moneta fiscale diciamo sono titoli fiscali che poi il mercato decide di farli funzionare come mezzo di pagamento cioè in realtà non sono neanche una vera e propria moneta cioè il mercato che ne fa una moneta perché quindi purtroppo per loro non hanno trovato i sistemi anche giuridici anche con Eurostat non ci sono riusciti infatti Eurostat ha detto che bisogna che è in corso una revisione delle regole contabili che poi c'è uno sconto fiscale non rimborsabile in denaro non è non è debito ci sono pure degli accordi internazionali di contabilità internazionale quindi cioè non è che possono inventarsi delle cose facendo diventare debito quello che non lo è quindi si sono trovati in una situazione abbastanza per loro cioè che non sono riusciti a gestire quindi che gli sta che gli sta comunque mettendo difficoltà e Draghi non vuole questo tipo di mezzo di pagamento e quindi questo è questo è chiaro ormai sono mesi che sta andando avanti questa storia